Elident, il tuo dentista di fiducia, e la prima visita è gratuita. Telecom Italia mette a disposizione di giovani e promettenti start-upper un grant iniziale di 25.000 euro per implementare la loro start-up. Siamo andati nel Working Capital a vedere cosa succede. Siamo in compagnia di Luca Bertone, responsabile dell'acceleratore della team, il Working Capital. In che consiste un acceleratore? Allora, un acceleratore è uno spazio fisico, dove in questo caso Telecom Italia ospita delle aziende, delle start-up innovative, che vengono a proporre e a sviluppare le loro soluzioni nei nostri spazi. Mettiamo a loro disposizione non solo un'infrastruttura tecnologica, che può essere connettività di qualsiasi tipo, ma a questo punto anche degli spazi fisici, dove i ragazzi, le start-up, oltre a sviluppare le loro idee, possono anche avere il tempo di ricrearsi, riposarsi, giocare a biglardino, mangiare, divertirsi tra di loro. Li seguiamo e li vogliamo curare a tutto d'ondo in questi spazi, che sono i nostri spazi di proprietà, nei quali cerchiamo di dare tutto il supporto e tutte le attività delle quali loro necessitano per lo sviluppo delle loro proposte, delle loro idee. Come sono entrati in contatto con il Working Capital? Questi ragazzi, queste aziende potenziali start-up o effettive start-up? Allora, noi abbiamo inaugurato questo acceleratore il primo di settembre di quest'anno, ne abbiamo altri tre in giro per l'Italia, abbiamo Milano, Bologna e Catania. Utilizziamo questi spazi per far venire dentro le proposte che arrivano dal mercato. Come le raccogliamo? Tramite un nostro sito internet, wcap.team.it. Questo sito ogni anno ha una gara, che è aperta a chiunque abbia delle buone idee, delle buone proposte da portarci. Su questo sito vengono generate delle application, quindi delle proposte, e queste soluzioni individuano in ambiti e mercati differenti. Noi selezioniamo queste proposte, naturalmente su tutta la marea, perché ne arrivano moltissime di idee, andiamo a valutare quelle che sono più attinenti, quelle più adatte al nostro mondo, quindi il mondo delle telecomunicazioni, dell'information technology, del mercato comunque, della connettività, dell'infrastruttura e dei TLC, e andiamo a sviluppare in questi nostri ambiti queste loro proposte. Le finanziamo, gli diamo un supporto che è anche, non solo infrastrutturale, ma anche economico, e quindi le seguiamo durante tutto il corso della loro vita evolutiva, quindi dal punto di vista sia del progetto tecnico che anche dell'idea di business. Quindi il primo aiuto sostanziale che date a queste nasciture start-up è un grant iniziale, un finanziamento iniziale di quanto? Allora, noi diamo, per quest'anno, nel 2014, abbiamo dato un contributo di 25.000 euro. Su quante aziende? Abbiamo ricevuto circa 1.300 proposte, ne abbiamo selezionate 40, 10 per acceleratore, e quindi sono 10 premi per acceleratore da 25.000 euro, quindi 40 a livello nazionale, che queste start-up hanno potuto utilizzare fin da subito per aiutare a evolvere le loro idee e le loro proposte. Ciò non toglie che nel corso del tempo, se noi come Telecom Italia andiamo a valutare che queste soluzioni, queste proposte sono particolarmente interessanti per quanto riguarda il nostro business, il nostro mondo di Telecom Italia, le facciamo crescere e possiamo portarle direttamente sul mercato, possiamo investire direttamente a loro partecipando nel loro capitale, poi possiamo far vendere direttamente le loro soluzioni, direttamente sui nostri clienti e sui nostri mercati. E su 40 aziende che hanno vinto questa prima selezione, potenzialmente quante aziende vinceranno l'intero processo creativo e evolutivo? Allora, a noi piacerebbe portarle dentro tutte e farle diventare, sono già dentro il mondo Telecom, che cosa ci piacerebbe? Che queste 40 proposte diventassero 40 soluzioni da vendere sul mercato, 40 aziende che poi nel corso del tempo possono diventare aziende che camminano per controllo, e che quindi riescono ad avere una prospettiva di mercato indipendente da Telecom. Quindi, indipendentemente dal nostro mondo, comunque possono continuare a vivere per conto loro. È evidente che non tutte e 40 potranno avere uno sbocco così forte e così potente sul mercato di riferimento, però il nostro interesse è accompagnarle e portarle avanti nel corso del tempo e cercare di fare diventare, perché no, tutte e 40 potenziali aziende che possono avere anche un successo nei loro ambiti di riferimento sul mercato. Se volete approfondire i nostri argomenti, potete seguirci su www.lafinanzasulweb.it e se volete commentarci, potete scrivere su Twitter hashtag WebMind Allident, il tuo dentista di fiducia e la prima visita è gratuita